Tanti insolubili avvincenti riempiono la nostra vita. Sono Misteri, un programma che ci accompagnerà nelle domeniche invernali con storie di presenze inspiegabili, fantasmi, angeli custodi, miti, simboli, superstizioni. Tutto ciò è Misteri. Ascolteremo i testimoni, mostreremo gli esperimenti, vaglieremo le tesi degli scienziati, perché tra i dubbi e le suggestioni c'è sempre un frammento di verità. Ti aspetto domenica 30 ottobre, alle 21 inizieremo assieme il nostro viaggio nei Misteri. Cioccolatini assortiti Lind. Regalati un cioccolatino Lind tutti i giorni. Lind, piccolo piacere quotidiano. Ma no, ma sì, sai che c'è anche Francesca stasera. Esatto, quella che ti piace tanto. Bravo, la fanatica. Scusa, scusa, l'altra chiamata. Pronto? Ciao Marco. Sì, mia sorella. Adesso te la passo. Barbara, dai però fai presto un altro amico in linea. Pronto? Ciao Marco. Mi ami? Ma quanto mi ami? Ma io invece ti odio. Ti odio, ti odio. Erna 2, avviso di chiamata. Anche occupato, il tuo telefono è sempre libero. Mi odi? Tanto? Ma tanto quanto? Golden Lady, you make me feel so good. You are the one, you make me feel myself. Golden Lady, I'm the one, you make me feel myself. Ecco a voi Cleteo Spin. Cleteo Spin, Cleteo Spin è odora per 30 giorni. Cleteo Spin, Cleteo Spin. Inseritela di casa e un fresco profumo si diffonderà per tutto un mese. Cleteo Spin. Un soffi d'aria. Gradisce? Grazie. Ah, i premium Saiba. Quelli lievitati naturalmente. Per 23 ore me li ridà per favore? Eccoli. Dove? Qui. Senta, mi vedi ai miei premium? No. Ma come no? Sono miei. Ma lo sa che sono proprio buoni. Ma lo sa che sono proprio miei. E se diventassero i nostri? Croccantissimi cracker con 23 ore di lievitazione naturale. Premio. Sai subito che è Saiba. Di un'auto così potete aver bisogno per tante ragioni. Ma ce n'è una che ve la farà desiderare. È un Alfa Romeo. Alfa 145. Inaspettata. È Alfa Romeo. È in edicola Microsoft Publisher 1. Per creare cataloghi, volantini, biglietti d'auguri come esperti grafici. L'impaginazione alla portata di tutti. Microsoft Publisher 1 per Windows con un'offerta a Olivetti PC e stampante. È in edicola solo 89.000 lire. Fabri editori Microsoft Home. Che, è un'offerta a Olivetti PC e stampante. L'Edoardo. Al termine per chi vuole sapere tutto su Edoardo a tu per tu con Edoardo. Conduce Ferruccio Marotti e per la regia di Tonino del Colle. Anche qui i sottotitoli sono alla pagina 778 di Televideo. All'1.10 vi ricordo il telefilm Animali pericolosi della serie Soco 5113 squadra speciale. A voi tutti un buon proseguimento di serata con Rai2 e arrivederci. Ciao. Se fai viaggiare comode e protette le cose che ti stanno a cuore, fallo anche con te stesso. Nuova Renault 19 Camarga. Tutte le tentazioni della qualità. C'è solo un modo per fare veramente gli interessi del vostro denaro. Con un'attenzione continua agli sviluppi del mercato e a quelli della vostra vita. Se cercate una banca che lavora così, cercate noi. Banca Fideuram. Vi diciamo quello che vi interessa. Mini 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 croissant mini 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 pauli mini meglio pauli. Nera. Bellissima. Inutile rubarla. Funziona solo con la sua keycard. Si vede dell'adesivo e della linguetta. Blaupunkt con keycard elettronica. La musica che cattura. In Italia, un milione e mezzo di famiglie hanno già scelto le caldaie Sonie Duval. Sonie Duval. Il caldo è più sicuro. E lei dirò di più. Maurice Lacroix è impermeabile e può andare sotto fino a 100 metri. E lei va giù fino a 100 metri. Noi non lo so notare. E allora? E ci va da solo l'orologio. Maurice Lacroix. Molto, molto da dire. Parla come loro. Agisci come loro. Tratta come loro. Organizza come loro. Dirigi come loro. Convinci come loro. Trionfa come loro. Scopri le chiavi del successo con Winner. Biblioteca di autoformazione. Tutte le tecniche per utilizzare al meglio le tue potenzialità. In edicola il primo volume, l'arte di comunicare, ha sole 3.900 lire. Winner. Una proposta di Agostini Franco Angeli. Ma è vero. Le Victor si respira vivo. Si sentono nella gola e anche nel naso. Requisiamo la prova. Anche ha il gusto menta, limone e arancia. Gradisce? Grazie. Ah, i premium Saiba. Quelli lievitati naturalmente. Per 23 ore me li ridà, per favore? Eccoli. Dove? Qui. Senta, mi ridi ai miei premium. No. Ma come no? Sono miei. Mmm, ma lo sa che sono proprio buoni. Ma lo sa che sono proprio miei. E se diventassero i nostri? Croccantissimi cracker, con 23 ore di lievitazione naturale. Prendi. Sai subito che Saiba. Di un'auto così potete aver bisogno per tante ragioni. Ma ce n'è una che ve la farà desiderare. È un Alfa Romeo. Alfa 145. Inaspettata. È Alfa Romeo. Il procuratore generale di Milano, Giulio Catellani, ha raffreddato la polemica con i giudici che conducono l'inchiesta su Tangentopoli. Polemica nata dopo alcune risorse.